Il personale delle cooperative che gestiscono i servizi sanitari delle case di riposo De Benedictis a Teramo e Rozi a Nereto, oltre che il servizio di ristorazione della De Benedictis, sciopererà per l'intera giornata di giovedì 23 giugno, con il sostegno delle segreterie di riferimento di CGL e Cisle Will. La situazione non è variata ai noi, quindi i milioni di euro di debiti dell'ASP nei confronti delle ditte non fanno stare al sicuro le lavoratrici e i lavoratori. I lavoratori della PAP, l'ultimo stipendio che hanno percepito, gennaio 2022, i lavoratori e le lavoratrici POLIS hanno ricevuto l'annuncio che senza un pagamento delle fatture arretrate non vedranno corrisposto il mese di giugno, lo hanno già annunciato. Per questo motivo abbiamo proclamato lo sciopero per richiamare l'attenzione su una problematica che sembra interessare solo noi rappresentanti sindacali in rappresentanza delle operatrici e degli operatori che si occupano dei nostri anziani. Una decisione è arrivata dopo l'ultimo tentativo di conciliazione con l'azienda dei servizi e la persona 1 di Teramo, giunto al culmine di una serie di denunce pubbliche sui continui ritardi nel pagamento degli stipendi, che hanno messo in serie a difficoltà le lavoratrici e i lavoratori di queste due strutture assistenziali per anziani. Per questo il personale delle due case di riposo nel giorno di sciopero, dalle 9.30 alle 12.30, sarà il largo San Matteo Teramo per un picchetto di protesta. Vorremmo richiamare l'attenzione a quell'assemblea dei portatori di interesse fatta da diversi sindaci della nostra provincia, dal presidente della provincia, dalla regione Abruzzo, dalla Curria, che ancora non danno alcun segnale né di vicinanza a queste lavoratrici e lavoratori, né tantomeno un contributo per la risoluzione di un problema. Nei mesi scorsi abbiamo invocato il commissariamento dell'ASP e l'abbiamo ottenuto, ma ci saremmo aspettati un commissariamento, come si dice, con portafoglio, un commissario che potesse avere le capacità a cui fossero state assegnate, le capacità economiche per far fronte ai problemi. Così non è stato. Abbiamo un commissario che però non ha alcun potere economico per risolvere il problema.